Tragedia familiare a Osnago, comune dell'Abrianza Lecchese. Padre e figlia, residenti in un'abitazione di Piazza della Pace, sono stati ritrovati questa mattina senza vita. La dinamica dell'accaduto, per come è stata ricostruita assieme dai primissimi momenti, pone tutti di fronte a un terribile interrogativo. L'uomo, Francesco Iantorno, 80 anni, ha prima sedato con una dose letale di farmaci da figlia Rossana, 45 anni, gravemente disabile, e poi a sua volta si è tolto la vita. Un gesto disperato che è stato scoperto proprio grazie ai volontari che insieme al padre si occupavano della donna. Sono stati loro, come ogni mattina, suonare al campanello della casa per portare Rossana al centro disabili. Oggi però nessuno ha risposto, i volontari hanno dunque allertato l'altro figlio che a sua volta ha chiesto a una persona di fiducia di intervenire. E poi la macrava scoperta. A Osnago Iantorno era molto conosciuto perché in passato era stato messo comunale. Un uomo cordiale interviene il sindaco Paolo Brivio che ha dedicato la sua vita ad accudire la figlia. Non ha mai voluto nascondere la condizione di disabilità della donna. Anzi, è sempre stato solerte nel chiedere aiuto a chi dovere nel sollecitare gli interventi necessari. Non siamo quindi di fronte a una tragedia maturata nella solitudine. Quanto accaduto pone la nostra comunità di fronte a molti interrogativi, prosegue il sindaco. Abbiamo fatto abbastanza? Potevamo forse fare di più? Sono domande che non trovano però una risposta se non in questo paradossale atto d'amore con il quale un padre ha voluto risparmiare alla figlia gravemente disabile un futuro di incertezze lontano dall'amore con il quale l'aveva accudita per tutta la vita. Questo mi sento di dire, conclude il sindaco. Le ha tolto la vita per l'amore che provava nei suoi confronti e per la consapevolezza di non riuscire a evitarle sofferenze in futuro.